Sono 12 gli scranni disponibili nel palazzo di Via De Leo per l'elezione del nuovo Consiglio Provinciale di Brindisi. Si vota sabato 18 dicembre dalle 8 alle 20, mentre lo spoglio inizierà domenica mattina alle 9. Sono 338 gli aventi diritto al voto, che va ricordato e riservato solo ai consiglieri comunali dei 20 comuni della provincia. Quattro sono le liste, con i 5 stelle che corrono per conto loro e il centro-destra ancora una volta spaccato. Quattro sindaci in corsa, tra i quali nei primi mesi del nuovo anno dovrebbe essere scelto il nuovo presidente della provincia. Elio Ciccarese di Torchiarolo, Angelo Marasco di Sandonaci, Giovanni Barletta di Villa Castelli e Toni Matarrelli di Mesagne. La lista di centro-sinistra comprende Luanna Miepirelli, Valentina Fanigliulo, Rosalia Fumarola, Giuseppe Ventrella, Mimo Tardio, Antonia Baccaro e Marina Luigia Mel Giovanni. Per i 5 stelle corrono i consiglieri comunali Tiziana Motolese, Marco Ruggero, Anna Caroli, Carlo Ferraro, Selena Nobile e Gabriele Presta. Nel centro-destra, dopo la rottura, la lista Brindisi Libera, frutto dell'accordo Lega e Forza Italia, sarà composta da Raffaele Martina, Michele Lariccia, Adriana Balestra, Vincenzo Calabretti, Pompea Cappelli, Laura De Mola e Pasquale Santoro. La lista di Fratelli d'Italia è composta da Anna Ferreri, Massimiliano Giano, Cataldo Rodio, Giuseppe Bagnulo, Susanna Di Maggio, Ciccio Conte, Luciano Cavaliere, Luana Iaia e Katia Albanese.